Donne incinte, disperate a darvela, qui vi fermano per strada per poter aprire le cosce al turista. Ma com'è possibile? Mica si tratta di bagage qui? Assolutamente no. Ciao a tutti, sono Lucas qui dalla bellissima Tunisia. Allora guardate, si tratta di un fenomeno della capitale Tunisi e vi voglio pure parlare del caso di questo ragazzo Mza e che cosa è successo a lui. Lui bravo ragazzo veduto in Tunisia dalla costa d'Avorio. Allora qui è così, molte donne non sposate, che non resistono, che non aspettano fino al matrimonio come dovrebbero, come sarebbe prescritto nel Corano, rimangono incinte. Poi dopo però, come priva del consumo, così anche dopo non possono sposarsi. Perché? Perché l'uomo non vuole, forse. Ma la vera ragione è che l'uomo non può sposarsi, perché non ha la casa, non ha i 8, 10, 1000 euro per il matrimonio, e non ha quel lavoro legale, sicuro, che aveva bisogno per potersi poi sposare, cioè che la famiglia di lei accetta. E così un po', un po' si divertono e poi succede quello che deve succedere. C'è anche molto stupro qui, e poi le donne non denunciano. Un altro storico sarebbe un video perché le donne non denunciano lo stupro. Ma quello poi è una storia tristissima, più che quello qua non me ne va. E se vuoi parlare di una cosa bella, queste donne incinte, le donne incinte, vogliono aprire le gambe, e fanno dire disposte a tutto, ragazzi, fa tutto, eh, porticina di dietro, da avanti, sopra, tutto, tutto, tutto. Perché quindi? Perché hanno bisogno subito di un papà. Cioè vogliono sposarsi subito con uno straniero, così uno sarebbero sposate, due potrebbero partire, perché poi la gente fa i conti, ma come? Tu l'hai conosciuto, lui è arrivato quella data, sei incinto, già, quindi vogliono anche partire. E vogliono anche partire perché tanto vengono da un ambiente sfavorevole, ecco, già loro probabilmente non avevano il lavoro, il loro ragazzo non aveva il lavoro, ecco, avete capito. Quindi questi vi fermano per strada e non sono bagagli. E vogliono, sono disperati, dicono, come sei, che fai, eh, andiamo a conoscerci, io sono molto seria, però, eh, per te che mi piace, bla 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 bla. Cioè vi vogliono fregare, avete capito? Però, cioè, mica noi siamo voi così scemi, giusto? Però voglio un po' parlarvi di questo ragazzo, di un zacco che è successo a lui. Lui è venuto in Tunisia sette anni fa dalla costa d'Avorio. È venuto dalla costa d'Avorio e ha conosciuto questa donna che era già incinta. Se l'è sposata. Però lui venendo dalla costa d'Avorio aveva il suo colore. E lei è venuto in Tunisia e c'aveva il suo. E poi hanno avuto questa bambina che aveva il colore che non c'entrava niente con la costa d'Avorio o con lui. Ma tutta la gente glielo diceva, ma senti, e lui no, 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 negava. Negava. E nega ancora. Cioè, e non ha affatto altri figli. Solo quella figlia c'ha. Cioè, una cosa stranissima. Voi che ne dite? Perché fa così? Sarà che lei è talmente brava che lui semplicemente vuole solo questo? Fare altri figli non gli importa. Non li può avere. Quindi gli faceva... Io non so questa storia. Voi che ne pensate? Però ecco. La cosa fondamentale è che se venite in Tunisia, sono tante queste donne incinte. E stanno lì, nei posti più turistici, un po' a sfax, ma soprattutto nella capitale Tunisi. Non andate a pensare che se andate nei posti poveri, che là troverete le povere e le disperate. Perché là sono sotto un controllo che... Pure se mi mangio con gli occhi, e lo faranno. E lo faranno. Se andate a Casserina, il Kef, le donne mi mangiano con gli occhi. Il passaporto europeo. Immaginate se vede uno come me, che cosa pensa. Penso quanto è bello, quanto è giovane. E penso, questo ci avrà il passaporto europeo, ci avrà qualche soldo. Possiamo fregargli. E comunque fate così, venite a divertirvi, dai, subito. Prendete un volo all'aercoaster e venite in Tunisia.